Musica Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi mi trovo da Euronics a Lentini perché celebriamo un anno di attività. Piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, televisori, tutto all'interno di un unico negozio. Venite con me. Musica Oggi festeggiamo il primo anno di attività a Lentini. Questi 12 mesi abbiamo ottenuto bellissimi risultati. Il primo è stato quello di portare da 7 a 12 unità lavorative all'interno del punto N, quindi abbiamo dato spazio e lavoro a persone del territorio. Il secondo è che siamo riusciti a ricoprire il 49% delle vende del territorio. Ci sarà un prossimo passo, con noi questo è il terzo store che abbiamo assieme all'azienda Bruno e ci sono nuovi sviluppi per nuove aperture in territori siciliani. Per noi è importante credere nelle risorse, i nostri negozi si basano appunto sull'esperienza umana che può offrire i nostri collaboratori ai clienti. Le prospettive sono quelle di una continua crescita ovviamente. Oggi con l'innesto di Lego, quindi con questo reparto, diamo intanto una certa completezza a quello che è il nostro punto vendita. Una bellissima realtà, una famiglia bellissima, quella degli Onti, famiglia di grandi imprenditori che hanno veramente investito il loro sacrificio, la loro fatica appunto nello sviluppo appunto del territorio. Grazie. Grazie a tutti.